Sige per noi è un appuntamento ormai immancabile perché è l'appuntamento delle finali nazionali delle varie competizioni del Cisgui Tosca, quindi è un momento in cui vengono presentate le innovazioni del mercato. Cisgip è ormai una garanzia di visibilità, di clientela interessata, quindi è sicuramente un appuntamento importantissimo per le aziende. A combinazione di innovazione e stile e l'esperienza che ho avuto per incontrare le persone, perché they're great, they're smart, knowledgeable, and friendly and so easy.